Il gommone alla prua verso la Spagna arriva dall'Africa. A bordo ci sono migranti provenienti dal Marocco. Il loro sogno è l'Europa. Ad un certo punto dalla zona del motore divampano delle fiamme. Il gommone prende fuoco e le persone a bordo si lanciano in mare. La drammatica situazione è stata ripresa due giorni fa da un aereo militare portoghese a 16 miglia sud-ovest dell'isola di Alboran tra Spagna e Marocco. Le immagini diffuse oggi dalla Reuters documentano anche il ribaltamento di un altro gommone e confermano che erano già attivi mezzi dell'Agenzia Spagnola per il Soccorso in Mare Salvamento Maritimo. La prontezza dei soccorsi e l'ausilio di un gommone lanciato prontamente da un elicottero hanno reso possibile il salvataggio di 34 persone originarie del Marocco le quali nella serata del 28 maggio sono arrivate nel porto di Motrilli in Andalusia. Loro ce l'hanno fatta ad attraversare la trappola del Mediterraneo. Con l'aiuto dell'umanità dei soccorritori ce l'hanno fatta ad aprirsi un orizzonte di vita in una terra nuova. L'Europa, una terra sicuramente con più opportunità rispetto alla miseria lasciata alle spalle. Dall'inizio dell'anno, secondo i dati diffusi oggi dal Viminale, ce l'hanno fatta ad arrivare in Italia 60.215 migranti, tra cui 6.242 minori non accompagnati. Anche loro salvati da operatori umanitari che avevano a cuore solo la loro vita.